Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro amico l'IP2L200 Siamo qui oggi su The Last of Us come vi avevo promesso Allora, prima di iniziare voglio dirvi che Il video di plug-in, quello che ho fatto, verrà renderizzato e ho porto entro stasera E il massimo lo vedete domani Mentre due video, questo qua The Last of Us e Slip Ops, usciranno domani Se sentite un attimo respirare, poi c'è il cameraman che sta sudando perché sta facendo un'azione titanica No, no, prego, si faccia vedere un attimo perché No, dopo facciamo una foto, la leghiamo a fine video Ok, la leghiamo a fine video Allora, se vedete tremante perché adesso per mezz'ora il nostro cameraman deve tenere in mano Vi faremo vedere la foto, capirete tutto Allora, selezioniamo difficoltà, facciamo... Ma sì, normale Ah, ho scondato il joystick Sì, nuovi dati Sì, sì Tendere il sabattaggio in corso, ok Vabbè, vi avevate già spiegato il motivo Non, cioè, non picchi... Ok, quanto cerchi ho sbagliato? Eh, vabbè, vediamo come scena Che buona che chiama Tanto c'è... PC, è physics Guarda le physics The physics Pronto? No, no, non c'è Spero, deve essere e mezza, sette Allora, cameraman, come procede? Che cazzo... Cato di fare l'imbraccio destro No, ma adesso mi abituo Ma quanto cazzo dove ho caricamento del gioco? Io lo tagliamo PlayStation Eh, tre poi Tre, neanche quattro perché we are... Cazzo vuoi da me? Tanto facciamoci vedere così, proprio soggetti ignoti Allora... Vabbè, questa parte qua la tagliamo Oh, oh Deve arrivare a cento? È a due per cento, attenzione Quattro per cento Attenzione ai zaghi! No, sbaglia Sbaglia tutto Allora, si siede da lei Eh, ma se io mi siedo, lei... Cioè, non so se mi si sente bene Ma sì Va bene, mi metto qua sotto Ma lui si vuole avere l'altonico microfono qui, via Sei qua sotto Sono sempre qua sotto, eh Salve Eh, non si vede L'ho capito Tutto buio In cinque minuti che me ne metto Dopo, dopo vi facciamo vedere la foto di come siamo qua Mi caspè, la faccio io però Mettila legata poi al video Sony Computer Entertainment Entertainment I'm now to talk game Mettiamolo sulla nasce Il volume! E scusa Carmelo Sì, Tommy Tommy, 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 ascolta Tommy dai cazzo, chi è Tommy? Cazzo, sì, eccomi Tente, non posso perdere questo volume Sì, lo capisco Aspetta Ah, mo? Il mio parlo di un'altra Ok Il mio parlo di un'altra Sì, cazzo Buongiorno Sì E' fatida Eh, donna che mi ha indicato fatiglia Buongiorno, tono al lavoro, eh Non me ne parlare Mi è dolceziato Che sui indiettati Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a me Ma è ancora oggi? Bella battuta Tieni Eh, poi va Ma finita c'è Il tuo capiamo? Mettila legata al video Per favore Tanti auguri Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così io ho Un Rolex, grazie Ma chi l'hai rubato? Lo buttano nel cesso Che c'è? Vieni qua che te Eh? Perché vieni qua che te Oh, se vanno a renderizzare Ma Credo che sia rotto Cosa? No, 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 no Ma che scherzo di merda Dove hai presi i soldi per questo? L'ho rubato Va bene? Sì, le droghe pesanti Sì, le droghe pesanti La concorrente No, è Non vale Eh? E' minorenne, strozzo Finisco io denunciato No, l'ho vissuto di lei Al far padre Mi ha tristato da dove Tra il fatto Lo sai Come deve stare La capra di un compi amico In 5 secondi La capra La capra La capra La camera? Ha capito un capra Come deve stare la capra Like a genius Come deve stare la capra In 5 secondi Vai Ma che cazzo ci fa A fare lo zanio? Avanti Stai calmo Oh, ho detto Avanti Siamo dei geni Cazzo, tu devi chiamare papà Signor Tommy Quali sono? Devo parlarmi Ci sono dei Signor Tommy Pronto? Eh, c'è la giochetta Perfè? E devi passarla Eh Siamo a usare il Il mobile che c'è davanti da tele Eh Cosa vuole fare? Eh, c'è il mobile davanti da tele Eh, a vero Stiamo un po' più avanti Sì, dai che è meglio Eh, vai Signor Camera Ormai deve tenere due per trenta minuti Siamo già a cinque Allora, per anticipare Finiamo il flashback qua Non è un flashback Non flashback No, no Tutto il resto del gioco è un fast forward Sì, comunque capito Cos'è un po'? Sì Giovedì Ah, c'è andato Non ho capito Tutti, no? Cioè, io Allora Non corre Se mi cade il telefono L'ho uccido Che ho smotto Oh, quel bambino che c'è Oh, che cazzo Cos'è stato? No, lo so Qualcuno che scorda giù E' qui E' qui No, non è qui La droga è qui Il droghiere Eh, cosa faccio? Vedi qui? No Ah, buono Allora, è qui Perché il cane è baglia? E' il cane è baglia! Non dice il suo telefono Rubalo, rubalo Ma scusate come ruba questa qua? Cos'è un iPhone? Perché il mio telefono non si illumina Nascita? No Ti ha lo vuoi Un telefono non esiste Ti ha lo vuoi? No, fa schifo Io sono esperto da uno Io Eh, va bene Come il suo Un'altra cosa Un coppia che scorda di più Il mio telefono non si virtù Un coppia che scorda di più E' un'altra cosa Non si può dire Un coppia che scorda di più E' un coppia che scorda di più Sto abbracciando Scusi Mi presta la pistola Spara Hai fatto cilecca No, no, ho fatto finito Ho mangiato tutto la scena Ma non morirò Dai, dai Dai, dai Tanta che luce c'era, c'era Gesù Cristo Oh, ah no, c'era polizia Che cazzo vuoi da me Si è coperto di sangue Cos'è l'euro? Cos'è l'euro? Ah, di qua è l'euro Ah, questo è l'euro, faccio i zoom tattici Tanto però la grafica è abominibile di questo gioco Cioè, veramente fantastica Non fosse per l'antializing della Play Delle console Ma questo mi fa interessante Certo, guarda Cos'è, cos'è, papà Ah, perché ce l'abbiamo? Ah, sono arrivati? Ah No Dai zitto se non vuoi morire Allora, Austin o? Allora, non voglio andare all'ospedale San Marcos Cazzo la so Una famiglia A partarsi in casa Già Scusa e non è un'unica città no mai non ci dico ciao luiz molto luce certo che no dicono che siano le persone in città noi non lavoriamo in città hai ragione è così siamo a posto lì siamo a posto lì siamo a posto lì guarda l'uomo anche noi non abbiamo spazio non ho capo il tappeto mi spiace il corpo facciamo il scelgo dai io scelgo non vado papà non va bene la stessa cazzo l'idea ehi che cazzo mi torniamo no dammi dammi testa testata ehi che smacchio di shang qua c'è ma cosa scappa ci provi scusa non possiamo fermare guardiamo indietro guardiamo indietro aspetta vai via aia che botta oh quanto siamo dieci 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 i'm still alive qui far acqua la amm 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 com amm ok come cazzo? ok un cogito io vado lì qua io vado la via in porta al cuore non so dove andava E' finito Che piccolo, che piccolo Ottimo Ah di qua Servo La parte è stata ottima E' c'è Action No non è morto Guarda 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 Ok Corri nella foresta Tanto non c'è lo slender Ma intanto c'è la DIA Che è veramente la grafica e il suono Sono una cosa veramente assurda Sembra di essere veramente il gioco È bello Ma ancora mi stai seguendo? No Era una malatona Non fare stronzate Se no ti ammazzo Non fare stronzate C'è una ragazzina Ma Non fare stronzate Ok ci serve Tu c'è morto? Oh no Ma che Eh va bene Non so che penso Dio Ma iniziamo già così Ma dai ma mi prendete per il culo Ma siete peggio di quelli della Talent Ma dai ma Ma che cazzo riposo per il culo Amore Amore 16 E adesso vado al produttore Gli spacco il culo dopo questa cosa qua Ti prego C'è però è bello come inizio C'è sì molto intenso C'è sì C'è prima passiamo da esplosioni e massacri Poi questi qua che Te l'ha sto vas Tipo World War Z No io non l'ho visto personalmente il film C'è no no all'inizio di coro Il primo di decennio per Marti ha superato i 200 Ma non lo chiediamo qua il primo video No facciamo mezz'ora dai No chiediamolo qui e poi la prossima volta ce la utilizziamo meglio Io solo faccio l'intro Così introduci la serie e poi la prossima Sì facciamo finire l'altro per questa parte qua poi finire Non mi ricorda vagamente Io sono leggenda Io meno Quindi infatti sono tipo quelli È molto tipico Con la paternuta di entrambi gli attai Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle luci Cercate le luci Bene ragazzi questo è il primo video della lunga serie di The Last of Us Che faremo ogni sabato O ogni giorno che ci abbiamo tempo Votate e commentate E al prossimo video Ciao